Questa volta, l'ho data bene, la mia collezione di fratture diventa sempre più consistente, ma la cosa importante è che l'attack sia negativa. È lo stesso Andrea Dovizioso a rassicurare i tifosi con un post social dal letto dell'ospedale Careggi di Firenze. L'ex campione del mondo di moto era infatti caduto un martedì mattina sul circuito valdarnese del Motor Park Il Tasso a terra nuova Brecciolini durante una sessione di allenamento. Ha riportato la frattura della clavicola, oltre ad un lieve trauma cranico ed alcune contusioni. La prognosi di quarigione è di 30-40 giorni. Il pilota, 38enne, ex campione del mondo della classe 125 nel 2004 e poi protagonista di tante vittorie con la Ducati in MotoGP, conosce bene la pista valdarnese. Con lui al momento dell'incidente c'era anche Alessio Chico Chiodi, ex campione mondiale di motocross che vive in Valdarno e che è amico da sempre del centauro romagnolo. Per cause ancora da accertare, il campione ha perso il controllo della sua moto finendo rovinosamente a terra. Il motociclista di Forlimpopoli è stato immediatamente soccorso e trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale Fiorentino di Careggi in codice rosso. Grazie a tutti quelli che mi hanno soccorso e al personale medico dell'ospedale, conclude Dovizioso, postando la foto che lo ritrae con una vistosa ingessatura al braccio sinistro e la spalla destra bloccata. Tra le reazioni al post anche quella di Valentino Rossi.